300 mila euro, una nuova condotta e circa tre mesi per realizzarle. Questa la ricetta messa a punto da Alto Calore per bypassare la frana nel comune di Medito Irpino che ha causato nei giorni scorsi lo stop all'ereguazione idrica. A presentare il nuovo progetto l'amministratore unico di Alto Calore Michelangelo Ciarcia che a Palazzo di Città ha incontrato i sindaci dei comuni colpiti dall'emergenza chiamati a raccolta da Enrico Franza. Il primo cittadino di Ariano si è anche fatto promotore di un documento sottoscritto poi da colleghi da inviare in Regione Campania, Regione che però, sottolinea Ciarcia, ha già dato massima disponibilità. Noi abbiamo interessato già la Regione su questo aspetto, insomma abbiamo avuto massima disponibilità. Ho diramato un comunicato sabato scorso dove ho spiegato praticamente che la Regione c'è vicino e che praticamente faremo un intervento di bypass molto probabilmente, che chiaramente non sarà breve. A differenza degli altri interventi che ci sono stati negli anni scorsi o nei mesi scorsi che riguardano veramente le rotture per vedustate le condotte. Questo è un intervento straordinario per una frana che è intervenuta in un momento particolare in cui ci sono state forti precipitazioni. Per cui, insomma, immaginiamo e pensiamo che questa cosa possa essere risolta breve, ma breve significa fare una condotta alternativa di circa un chilometro che impegnerà praticamente almeno qualche mese di tempo, ma non in questo periodo dell'anno che è piovoso. Eh beh, da parte nostra, insomma, di altrove siamo sul pezzo da diverso tempo. Purtroppo ne capitano, insomma, di tutti i colori e questa è l'ultima delle cose che sono capitate. Però, insomma, dobbiamo dare una risposta agli utenti e, insomma, il nostro impegno ci sarà come c'è sempre stato, chiaramente. Io posso assicurare che stiamo lavorando tutti i giorni per ridurre le deficienze e per fare in modo che, insomma, il tempo che si è perso prima venga recuperato. Però c'è un grosso impegno, sia da parte nostra, di alto colore, che della Regione Campania per sollevare le sorti, non soltanto di alto colore, ma anche, insomma, delle condotte idriche della provincia di Avellino. Grazie.